insieme per sempre sei la ragazza dei miei sogni scusami ma lo capisci che è proprio questo il problema? niente sempre insieme ti auguro davvero di trovare quello che ti piace Nicole sono ancora innamorata di Alex preparatevi a un finale di serie incredibile Alex & Co. gli episodi speciali a giugno solo a Disney Channel grazie